Ciao ragazzi, ciao a tutti, sono VigiFuture e bentornati su MucchioTV. Oggi, come avevo promesso, ho fatto il video delle domande che mi venivano rivolte. Dove ho preso queste domande? Le ho prese un po' in giro per i social, quindi su Facebook, su Instagram e qualcuna pure su Ask. Le ho filtrate perché ci stanno domande veramente stupide, diciamo stupide. Quindi cercherò di leggere almeno quelle poche che mi sono sembrate un po' più sensate. Particolarità, praticamente non mi è arrivata neanche una domanda con il nick o con il nome. Io avevo detto, sia su Instagram, mi pare pure su YouTube, che se mi facevate qualche domanda, se dovevo mettere il nick oppure il vostro nome, vi siete scordati, quindi io, ragazzi, le ho lasciate completamente anonime. Allora, prima domanda. Ciao IG, ti ho scoperto in giocoterapia. Madonna. Volevo chiederti come hai conosciuto i QDSS. Allora, ragazzi, io questa domanda qua l'ho già risposta in un altro video, però la ripeto perché magari uno, capisci, mi segue da poco, quindi non lo sa. Allora, io ho conosciuto la prima volta i QDSS tramite un messaggio che ho mandato loro, più precisamente a Nicola e a Reddits. Questo messaggio conteneva un video che avevo doppiato di una serie TV, mi pare, le Tre Rose di Eva, se volete, magari lo lascio in descrizione, sto video sta sul mio profilo Instagram o sulla pagina, non mi ricordo bene. Comunque, Nicola, visto sto video, gli è piaciuto. Successivamente mi ha detto che poi mi avrebbe magari ricontattato se facevano qualcosa. Poi sono andato a vedere il primo spettacolo dei QDSS a Isernia e per caso l'ho incontrato, pensate un po', in pizzeria con un'altra ragazza che saluto se mi sta guardando e così per caso, quindi, è stato il primo contatto con i QDSS, quindi con Nicola per la verità, perché poi ho visto lo spettacolo e ho posto una domanda pure a Sinergo, a Mario, quando io stavo tra il palco, tra le persone. Gli ho chiesto come aveva perso, come aveva fatto a perdere così tanti chili. Vabbè, non mi dilonghiamo, comunque questa, insomma, è la storia e sto parlando di un bel po' di tempo fa. Seconda domanda, cosa pensi di chi se la molla? Raga, io non so che cazzo voglio dire, chi se la molla, penso di chi se la tira. Eh, chi se la tira avrà i suoi, magari è solamente timido oppure uno stronzo, cioè, non è che ci stanno molte altre opzioni. Allora, che fotocamera usi per i tuoi video? Raga, allora, io tengo fondamentalmente una Logitech che usano pure gli altri YouTuber per fare i gameplay, perché mi è più comodo. Tengo pure un'altra videocamera, ma preferisco la webcam, perché veramente mi rompe i coglioni a mettere, montare, smontare. E invece, per questa qui, la fotocamera che sto usando mo' è una Sony, una mirrorless della Sony. Non mi ricordo il modello, magari ve lo lascio in descrizione, scusatemi. Ancora. Che tipi di film ti piacciono e quali no? Beh, questa è una bella domanda, perché potrei dire un bel po' di cose. Comunque, in generale, mi piacciono molto le commedie ben scritte, quindi scritte in una determinata maniera. Mi piacciono pure i film action, i film d'azione. Invece, quelle che proprio odio, cioè, non è che odio, però non li preferisco, sui film con i supereroi, perché mi sembrano molto banali. Ovviamente non tutti, perché ci sono molti film che mi piacciono, tipo, che so, Wolverine. Wolverine mi piace come personaggio, infatti il film che l'ha contraddistinto mi piace parecchio, però mi piacciono... Ho visto pure un film italiano, che parlava di supereroi, ma non mi ricordo neanche il nome, magari me lo scrivete nei commenti, ma non mi soviene. Però, in generale, i film che piacciono di più sono i commedia e gli action. Gli horror mi sto avvicinando un po' alla volta, grazie a un mio amico Angelo, che me l'ha fatto scoprire un po' di tempo fa, e quindi mi ha fatto appassionare alla saga horror, però soprattutto quelle di serie B, perché, diciamo, gli altri tipi l'ho visti, però, in generale, non mi hanno mai ispirato più di tanto, perché, di base, un horror dovrebbe fare paura. Io, invece, ogni volta che vedevo un horror, mi annoiavo, quindi, diciamo, i film horror che preferisco sono quelli che fanno pure un po' ridere, un po' splatter, un po' ridicoli, bizzarri. E andiamo avanti. Ah, questa domanda è proprio nel personale. Sei fidanzato? Chi mi segue, insomma, lo può capire, insomma. Quanti giorni di riprese YouTube Money? Cioè, proprio, quanti giorni di riprese YouTube? No, quanti giorni di riprese c'è voluto per YouTube Money. Vabbè, comunque, insomma, sei capito. Per YouTube Money, immagino, l'ultima. Allora, l'ultima YouTube Money 3, che orientativamente uscirà ad aprile, sono stati fatti in totale circa due settimane. Però, sto parlando del periodo più stretto perché non parlo, ovviamente, della post-produzione, del montaggio e tutto, che veramente è un casino di tempo. Insomma, le riprese vive sono state due settimane. Per quanto mi riguarda, invece, forse sono stati cinque, sei giorni? In tutto? Non lo so, ragazzi, veramente non mi ricordo. Comunque, in tutto sono state due settimane. Videogames preferito? Eh, bella domanda. Cioè, giochi preferiti? Allora, amo molto gli open world, che si può girare, si può spaziare. Come multiplayer mi piace pure quel genere là. Ovviamente, questo canale, quando è nato, si è ispirato proprio a un gioco in particolare. Sto parlando di Red Dead Redemption, da cui è nato un clan, quindi poi è nato questo canale che gestisco io. E quindi direi i giochi così. Però non disdegno pure le avventure grafiche. Diciamo che, come gioco preferito, posso dire sicuramente gli open world. Mi piacciono pure gli FPS Arena, però non sono bravissimo. Però, se giocati in un certo modo, mi piacciono. Magari con qualche amico. Hai profilo Steam? Eh sì, ce l'ho il profilo Steam. Mi pare che l'ho lasciato pure nella descrizione tra i link. Non mi vorrei sbagliare. Comunque, lì c'è il gruppo del Mucchio Selvaggio. Se volete unirvi, ovviamente io sto dentro. E quindi mi prendete lì, perché il mio nome è lo stesso, VG Future, e lo trovate pure nel gruppo di Steam. Ancora, cosa ne pensi delle Olimpiadi dei videogame? Le Olimpiadi dei videogame, immagino che sia stata una delle ultime notizie che sono uscite, cioè quella là che hanno fatto diventare i videogame disciplina olimpionica. Mi pare che questo l'ho pure spiegato, però, generalmente io credo che sia una buona trovata, una buona idea. Ovviamente la persona che non ne conosce, è tipo l'articolo della Pellegrini che parlava delle Olimpiadi dei videogames. Lei, come molte altre persone, hanno un'idea di videogames del ragazzo che sta seduto davanti al televisore che gioca i soliti giochi del Kaiser, e invece no, perché ci sono dei giochi competitivi dove si ci può sfidare, dove si richiedono determinate abilità. Io voglio dire, io sono pure un preparatore atletico e ho fatto scienze motori, ho diversi corsi fatti al CONI, quindi diciamo di cultura fisica qualcosina, ne so, e vi assicuro che se una persona non è allenata pure a livello fisico, a videogame non riesce a giocarci, perché è vero che bisogna allenare soprattutto i riflessi, però stiamo parlando sempre di una particolarità fisica, quindi non sottovalutate le persone che sanno giocare a un certo livello ai giochi competitivi, e per giochi competitivi, che so, ultimamente, mo' c'è stato League of Legends, io non so se League of Legends possa essere considerato o meno un gioco competitivo, perché, vi dico la verità ragazzi, io non ci ho mai giocato, mi sono approcciato, però, questi MOBA, perché penso che siano MOBA, non ci ho mai perso troppo tempo, quindi, non so se considerarlo o meno un gioco competitivo, però, si sono viste in tv, le ultime, come ultima notizia, ho visto che, nei paesi del sollevante, c'è stato questo mondiale di League of Legends, quindi, io penso, sì, a tutti gli effetti, si possa considerare i videogame come disciplina o l'impionica, e ci voglia una preparazione che non ha niente da invidiare, a una preparazione fisica, come può essere uno sport, che so, del calcio, del nuoto, o quant'altro, semplicemente, bisogna allenarsi in quella maniera, bisogna avere quella filosofia, di vita, perché lo sport, è una filosofia di vita, e, badate bene, non è assolutamente vero, che chi gioca a videogame, a livello competitivo, deve semplicemente, mettersi davanti al televisore, dalla mattina alla sera, e perdere le sue giornate lì, perché vi assicuro, che quella persona lì, assolutamente brava, non diventerà mai, perché se non si allena, pure, a livello fisico, ragazzi, c'erano altre domande, però, in generale, queste qui, mi sono sembrate, insomma, tra tutte le più sensate, anche perché, molte si sono ripetute, tipo, un sacco di persone, mi hanno chiesto, ragazzi e ragazze, se sono fidanzato, ragazzi, se mi seguite, sul mio profilo Instagram, riuscite a capire, se sono fidanzato, o meno, insomma, non sono domande, che, secondo me, debba dire, anche perché, a me non è, che mi piace troppo, parlare della mia vita privata, ragazzi, e questo era tutto, per questo video, fatemi altre domande, farò altri video, così, cercate di fare domande, più articolari, più carine, io non ho nessun problema, a leggere, lasciatevi pure, il vostro nick, altrimenti, io non so chi nominare, se il nome o il nick, e noi ci vediamo, la prossima volta, e noi ci vediamo,